Domenica prossima si terrà una manifestazione in memoria di Massimiliano Bianco, di cosa si tratta? Allora si tratta di una commemorazione che facciamo da 11 anni, da quando è stato l'evento della sua scomparsa e questa manifestazione organizzata dai familiari e dalla società sportiva Spezia Sub ha un calendario di promemoria della commemorazione che parte dalle 10 fino alle 11 si svolgerà l'isola del Tinetto in cima al secco, un secco del Tinetto davanti a una mandonnina praticamente dove è già posizionata adesso e lì si svolge praticamente la lettura dalle 10.30 la lettura della preghiera del subacqueo e tra parentesi è stata indicizzata dallo Spezia Sub ai tempi del 1972, si figuri, è diventata la preghiera nazionale dei subacquei oltre a questo faremo subito dopo, dopo della preghiera, un lancio della corona in mare per ricordare questa commemorazione e per tutti quelli che hanno lasciato la vita a mare oltre a questo poi ci sarà l'inversione su dove era posizionata già la targa nel 2006 oggi, anzi ieri, abbiamo posizionato un delfino, un bellissimo delfino fatto dall'artista Alfredo Cocchio Ecco, quindi ci sarà anche l'inaugurazione di una scultura subacquea in questa occasione Certamente, questa è un'attrattiva che può venire utile per tutti i subacquei, per i diving o per altre società che vogliano partecipare e sono tutti benvenuti a questa manifestazione Come ripeto, lo scultore che è Alfredo Cocchio ha fatto una scultura bellissima ovvero sia che da un masso unico di arenaria ha scolpito questo delfino, è da vedere e oltre a questo dobbiamo fare un ringraziamento a tutti quegli enti che hanno partecipato, gruppi che sono per esempio Luca Servantini che è Art Sub specializzati in attività subacquee oltre ai vigili del fuoco della Spezia e il comune di Portovenere e Ente Parco questi vanno a un ringraziamento particolare Ecco, vogliamo ricordare ancora il giorno, l'ora e il luogo dove si terrà questa commemorazione? Sì, il giorno è il 21 di agosto, il luogo è il secco del Tinetto e la commemorazione si svolgerà dalle ore 10 alle ore 11 complessivamente partecipate tutti e fate un ricordo per Massimiliano, grazie